Amici di Marcosbox, benvenuti in questa ventitresima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Manjaro e del suo amore dichiarato per gli Snap. Il team di Manjaro ha partecipato allo Snapcraft Summit e si è lasciato convincere, ha deciso che a partire dalla prossima release di Manjaro verrà rilasciata con il supporto completo agli Snap out of the box. Quindi le edizioni con XFSE e GNOME avranno GNOME software con il supporto agli Snap, l'edizione KDE, sto parlando sempre delle tre principali, l'edizione KDE avrà Discover con il supporto Snap abilitato. Questa decisione è stata dettata anche dalla necessità di poter offrire ancora più software agli utenti, in questo caso software proprietario che non era possibile installare in precedenza semplicemente. Un esempio su tutti è la possibilità di installare su qualsiasi distribuzione del supporto degli Snap l'applicazione ufficiale di Spotify che viene rilasciata ufficialmente sullo Snap Store con lo Snap ufficiale. All'inizio settimana, a dirvi il vero, il team di Manjaro aveva lasciato intendere che per quanto riguarda la gestione degli Snap avrebbe utilizzato Snap Store, poi c'è stato un cambiamento. Se andate a vedere le ultime notizie sul sito ufficiale di Manjaro potete vedere che non viene più riportato lo Snap Store come applicazione per la gestione degli Snap, ma viene segnalato GNOME software. Perché vi ho fatto tutto questo pippone su Snap Store? Perché poi in settimana ho pubblicato anche una notizia riguardante Snap Store perché molti mi avevano chiesto ma questa applicazione Snap Store da dove è sbucata? È un'applicazione fatta da Manjaro e quant'altro? Invece no. Snap Store è un'applicazione sviluppata da Canonica già da diverso tempo che serve esclusivamente all'installazione delle applicazioni in formato Snap presenti su Snap Craft. È una specie di fork di Ubuntu Software però è dedicata soltanto agli Snap. Se andate ad installare queste applicazioni su una qualsiasi distribuzione che ha il supporto a Snap, vi trovate la possibilità di installare soltanto le applicazioni in formato Snap. Quindi potete sfogliare il catalogo da questa applicazione, il catalogo dell'applicazione Snap senza andare sul sito e fare tutto. E poi potete naturalmente installare per via grafica, possibilità di leggere i dettagli sugli Snap, leggere e scrivere recensioni, gestire l'autorizzazione, diciamo, tutto in un unico posto. È un vero e proprio software center. Installarlo è semplicissimo, su Snap, install, Snap Store. E vi ritrovate questa applicazione installata. Tra l'altro l'icona è molto carina. È una busta di cartone quando uno va a fare i regali di Natale con il simbolino di Snap. Passiamo alle cose più serie. In settimana abbiamo parlato anche di Linux Mint. E qui ci rilasciamo anche con Snap. Vedrete più avanti perché ci rilasciamo con Snap. Come ben sapete, Clemente Refebri, patron di Linux Mint, ogni mese va a fare un suo post mensile dove va a fare il punto della situazione e ringraziare gli utenti che hanno donato al progetto. Ha pubblicato una serie delle novità che vedremo sulla Linux Mint 19.2. Innanzitutto, diciamo, la beta di Linux Mint 19.2 è più vicina che mai. Quindi io ipotizzo che entro la settimana prossima dovrebbe arrivare. Perché? Perché se andate a vedere i repository di Linux Mint Tina, quindi la 19.2, si sono iniziati a popolarsi con la Cinnamon 4.2. quindi si stanno muovendo, stanno aggiornando. Il rilascio di Cinnamon 4.2 è stato fatto poi qualche giorno fa, quindi se volete installarlo su altre distribuzioni, se non ricordo male, su Manjaro è già disponibile nell'iso di testing, quindi potete farlo prima di Linux Mint. Dicevamo, le novità che vedremo sulla prossima versione riguardano molte delle novità, il file manager Nemo. La prima è l'aggiunta del supporto al pinning, cioè possiamo pinnare i vari file. L'aggiunta delle azioni condizionali, che praticamente sono, quando noi andiamo a fare clic con il tasto adesso su, che ne so, un file, un file d'immagine, possiamo scegliere imposta come sfondo, ma con le azioni condizionali possiamo anche dire, che ne so, se si tratta di un file contenente i metadati, che ne so, di una foto che abbiamo scattato, possiamo mettere, che ne so, il mostrami dove è stata scattata questa foto per aprire la mappa e quant'altro, cioè su una serie di azioni che servono per potenziare Nemo, la gestione dei file, ed è una cosa molto interessante e molto carina. Fra l'altro non è un'esclusiva ma non è una cosa nata soltanto all'interno di Nemo, perché in passato la gestione dei script c'era anche in Tunar, quindi si poteva potenziare anche Tunar. Comunque, il fatto che il team di Linux Mint ha pensato di integrare il Nemo fa molto piacere, perché Nemo è anche uno dei migliori file manager in circolazioni. Ovviamente il limite di queste funzionalità è soltanto la nostra fantasia, quindi sviluppate, 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 fate le vostre cosine. Oh che bello, si è sentito un tuono, non so se si è sentito, forse viene a piovere, forse a Madonna. Passiamo adesso, sempre a Linux Mint, passiamo alle modifiche che sono state fatte all'interno di Cinnamon, il menu di Cinnamon. Oltre ad avere un consumo minore di RAM, essere più veloce e più reattivo, sono state fatte anche alcune modifiche che riguardano la gestione delle applicazioni, o meglio, come vengono presentate le applicazioni. Se per esempio avete installato due editor di testi, oltre a XED, che è quello predefinito di Cinnamon, andate a installarvi anche GEDIT, in passato all'interno del menu delle applicazioni di Cinnamon avreste trovato text editor, editor di testo e due voci di editor di testo, quindi a fantasia, a fortuna dovrete andare a scegliere quella giusta. Adesso all'interno del menu delle applicazioni, accanto a text editor, editor di testo, trovate la distinta tra parentesi se state per lanciare XED oppure GEDIT ad esempio. Queste modifiche riguardano anche la sorgente dal quale è stata installata l'applicazione. Se avete, che ne so, Gimp installato da PPA da repository e Gimp installato da Flatpak, potete vedere tra parentesi se è stato installato da Flatpak o se è stato installato da repository, quindi sapete subito quale delle applicazioni state per andare a lanciare ed è anche questo molto interessante. Ci sono state fatte poi alcune modifiche nelle impostazioni di sistema ed è stato possibile, ed è adesso è possibile modificare le barre di scorrimento che sono ora configurabili. Potete disattivare, ignorare le impostazioni del tema e fare quello che vi piace con le vostre barre di scorrimento che sembra una cosa molto, diciamo così, ci siamo capiti. Sono state modificate anche le X-App che sono state aggiornate, Pix insieme all'editor di testo, all'editor di documenti, all'editor video, all'editor visualizzatore delle immagini, sono tutte state riviste, sono state anche migliorate il supporto delle scorciatoie da tastiera. Ha parlato poi del Mint Box 3 che stanno realizzando assieme a CompuLab, ha fatto le configurazioni possibili, il prezzo base ed è anche un mini-pitch davvero interessante. Anzi, se volete sapete cosa regalarmi, io lo dico sempre, ha parlato anche del supporto a 32 bit, sapete bene che Linux Mint è basato su LTS di Canonical, la prossima LTS di Canonical non avrà il supporto, non avrà l'ISO a 32 bit e quindi di conseguenza Linux Mint si adeguerà. Ha poi fatto una precisazione per quanto riguarda il discorso che avevamo fatto qualche settimana fa sul supporto MultiArch che Canonical aveva deciso di interromere, poi ci ha ripensato e quant'altro. E comunque ha fatto sapere che Ubuntu ha deciso di mettere mano, quindi di garantire il supporto MultiArch per una serie di applicazioni selezionate, diciamo quelle più, quelle mainstream, per non arrecare danno alle persone, quindi per Steam, Wine, altre applicazioni popolari, driver e quant'altro. Comunque, Crem, il buon vecchio Crem che deve fare il suo successo, il successo di Linux Mint, ad andare a tappare le falle lasciate scoperte da altri, ha fatto comunque sapere che in caso di ripensamento da parte di Canonica che non dovrebbe esserci, loro si impegneranno a risolvere il tutto per non arrecare danno agli utenti di Linux Mint 20. Dicevamo del collegamento con Snap, perché c'è un collegamento con Snap? Perché ha anche annunciato una cosa interessante, l'integrazione di Snap su Linux Mint per adesso non si farà, anche lui è stato invitato alla Snapcraft Summit, però ha deciso che non ci sarà per adesso l'integrazione del supporto Snap all'interno di Linux Mint. Crem ha detto che secondo lui siamo come client, come formato di file, che è un formato che secondo lui può funzionare. Si è visto invece un po' critico per due aspetti. Il primo aspetto riguarda il fatto che attualmente, meglio per come è strutturato Snap, è tutto in mano a Canonica, quindi c'è uno store centralizzato da parte di Canonica e non c'è possibilità, che ne so come con Flatpak, di mettersi su un repo per fatti suoni. E questo non gli piace. L'altra cosa che non gli piace sono alcune politiche di Ubuntu, per quanto riguarda alcuni pacchetti, perché per esempio Ubuntu prevede di sostituire il pacchetto di Chromium, presente nei ripositori di Ubuntu, con un pacchetto vuoto, che una volta che lo andate a installare, vi va a installare lo Snap di Chromium. In parole povere, quando andiamo a installare gli aggiornamenti da apt, Snap diventa un requisito per continuare a utilizzare Chromium e si installa alle nostre spalle. Quindi questo secondo Crem va a rompere una promessa fatta agli sviluppatori, ovvero che Snap non avrebbe mai sostituito apt. Io la trovo una critica un po', perché lascio un po' il tempo che trovo, perché comunque se una cosa funziona, in passato abbiamo visto che c'erano sempre problemi per quanto riguardava la giornata metrica di Chromium per Chromium sulle LTS, quindi se fornendo lo Snap si risolve il problema, ben venga. Passiamo adesso a parlare dell'avviso che ha fatto Linux Tovers agli sviluppatori. in queste settimane si sta tenendo in Cina la Cubecon più Cloud Native più Open Source Summit, China, questa mega conferenza che raccute tutte queste altre piccole che facciamo prima le conferenze singole, ma hanno deciso di fare una mega conferenza unica di tutti questi sviluppatori. Linux Tovers ha avvertito, gli sviluppatori ha detto che la gestione delle soluzioni software, secondo lui, diventerà molto più impegnativa per i problemi hardware che sfungono dal controllo dei team DevOps, perché sapete bene che cosa è successo negli scorsi mesi, negli scorsi anni, c'è stato il problema dell'implementazione hardware fatta da Intel e da altri produttori di processori che hanno fatto per mitigare gli effetti dei malware come Spectre e Meltdown, che sapete bene sono conseguenze del tipo di progettazioni in modo in cui sono stati progettati i processori in questi anni, che hanno questi trucchi che sono stati utilizzati da Intel e da altri produttori per accelerare le prestazioni dei processori che hanno poi causato la nascita di malware come Spectre, Meltdown e tutti quelli connessi che stanno uscendo man mano in questi mesi, che sfruttano tali falle, basti pensare ai recenti fallout e zombie god, ognuno di questi bug richiede un'altra patch al kernel Linux che a seconda di quando arriverà può richiedere poi degli aggiornamenti dolorosi per quanto riguarda il kernel ed è una situazione molto problematica perché è come la classica cosa che chiudi un buco e si apre un altro. A parte disattivare completamente il hyper trading, ogni patch richiede di aggiornare sia il kernel Linux che il BIOS, quindi è un bel casotto, è un bel casotto e l'altra soluzione, la disattivazione del hyper trading si elimina il problema della gestione delle patch ma riduce anche le prestazioni di circa il 15%, quindi ci troviamo di fronte a una sfida che i sviluppatori dovranno fare per implementare al meglio il loro codice per da una parte chiudere queste falle e dall'altra non influenzare sulle prestazioni. L'altro problema che vede all'orizzonte dell'Inustovas riguarda la legge di Moore, la legge di Moore che ha garantito un raddoppio delle prestazioni hardware ogni 18 mesi negli ultimi decenni, ma poiché i produttori di processori si avvicinano al limite di questa legge, molti sviluppatori dovranno mettere mano al loro codice per continuare ad ottenere le prestazioni migliori, quindi anche in questo caso dovranno riscrivere. Chef poi ha fatto alcune considerazioni sugli aggiornamenti del kernel Linux che arrivano sempre al ritmo di tre mesi e sempre con qualche ritardo e adesso il team di Linux sta lavorando un ciclo di pianificazione ogni sei mesi. Poi fa alcuni discorsi riguardo sempre la sicurezza che deriva da questi aggiornamenti e anche Jim Zimlin, il direttore esecutivo dell'autoambulanza, se la sentite, dicevamo Jim Zimlin, il direttore esecutivo della Linux Foundation, ha affermato che per contrastare l'aumento di questi problemi hardware e delle relative problematiche a livello di cyber sicurezza che convolgono i software open source, la sicurezza informatica è diventata la priorità principale della Linux Foundation e per migliorare questo settore la Linux Foundation sta studiando una serie di approcci per proteggere a meglio sia la catena di approvvigionamento globale, cioè per proteggere meglio la catena di approvvigionamento globale dei software open source e quindi vedremo nei prossimi mesi come si avverrà la situazione, vedremo come verrà presa come verrà presa da risultato questo avvertimento. Passiamo adesso, dedico un blocco della puntata proprio tutta lui, ai post di maglietta bianca. Il nostro caro Enrico la settimana scorsa ha fatto diversi articoli, il primo riguardava Chrome OS, Chromium che aveva fatto una piccola anteprima e quant'altro, aveva promesso di fare un articolo nel quale andava a analizzare i diversi ambiti di utilizzo di un computer, o meglio tutte le operazioni che di solito fa lui con il computer e come è possibile fare tramite Chrome OS. Ha fatto un articolo e ha spiegato cosa viene bene e cosa invece difficoltosa. Partito dalla gestione del sistema, la navigazione ai social media, ha parlato di autonomia e qualità, ha parlato di Office, della suite Google Docs, l'ha messa anche a paragone con la possibilità che c'è adesso di installare applicazioni Linux, ha fatto vedere che è possibile installare, che ne so, LibreOffice, ha fatto vedere che è possibile installare GIMP e ha parlato appunto della gestione e quant'altro. Per ogni categoria, per ogni ambito, quindi giochi, gestione video, editing, test, bla bla bla, ha fatto una piccola pagella, ha fatto un sunto e ha messo anche dei voti. Andatevi a leggere questa sua recensione per saperne di più su Chrome OS e per capire se può fare o meno per voi. Passiamo adesso a un articolo che ha pubblicato dal titolo Documentiamo i Runt. La scorsa settimana aveva pubblicato un articolo, le confessioni di Uinaro, nel quale aveva espresso alcuni problematiche riguardo la diffusione software, dei problemi che ci affliggono e quant'altro. Molti hanno commentato, alcuni non l'hanno presa bene, sembra che non abbiano capito appieno quello che Enrico intendeva dire, e ha fatto un articolo nel quale è andato a documentare i vari problemi che ci sono, che a suo dire, e anche alcuni a dire mio, sono dei problemi su cui bisogna lavorarci su Linux. La prima parte riguarda LibreOffice sia con Impress che con i fogli di calcolo. Ha spiegato quali sono i limiti di Impress, ha spiegato anche quali sono i limiti per quanto riguarda Calc. Molti sottovalutano alcune cose, per esempio se voi andate a fare un grafico con Calc, andate però a fare, l'avete visto, sembrano quei grafici che si facciano con le prime versioni di Windows, cioè con le prime versioni di Office. Non sono molto belli da vedere graficamente parlando, quindi se voi dovete andare a fare una presentazione dove andate a inserire i grafici e quant'altro, mettere questi grafici, mettere queste cose non è che ci fate un gran bel figurone, soprattutto se considerate anche un'altra cosa, che se fate lo stesso grafico con Google Drive, cioè con l'applicazione fogli di lavoro, fogli di calcolo di Google, il grafico ha un aspetto nettamente migliore, da l'area di essere molto più professionale. Parla anche di Gimp, parla di Kdenlive, parla dell'annotazione dei PDF, dei problemi che abbiamo, parla delle performance video, io quello lì sfondo una porta aperta con me perché io ho una scheda video in video e quindi ho problemi di tearing, flickering, praticamente con qualsiasi desktop environment. Ho fatto anche un mega articolo dove riassumo tutte le soluzioni, però stare lì ogni volta, stare a sistemare, a sistemare una cosa, perché una soluzione definitiva non c'è attualmente, quindi i problemi ci sono. Però la cosa carina di Enrico qual è stata? È stata che dopo aver pubblicato questo suo Documentiamo in Runt, ha pubblicato anche un articolo speranzoso, diciamo così, dal titolo Linux perché ti amo, dove praticamente va a elencare quali sono, secondo lui, le cose belle di Linux, la possibilità della scelta, la filosofia che c'è dietro, il senso di comunità, sono tutte esperienze nel suo editoriale, sono tutte esperienze che noi abbiamo vissuto. Chi è un utente Linux di vecchia data sa dei problemi, sa di quanto uno magari la passione che ci ha messo per risolvere problemi, che ne so come non mi funziona internet, o mi funziona stampante, o mi funziona lo scanner, il fatto di dare una mano agli altri, che è la cosa più bella nel mondo Linux, se qualcuno ti chiede come fare questa cosa, tu puoi aiutarlo, il fatto anche di crescita personale che offre Linux, perché di fatto offre una crescita personale perché ci si impegna per risolvere un problema, magari per capire come si fa una cosa e ci si incaponisce e si diventa utenti professionali, diciamo così. Il fatto che Linux ti permette di essere quello che vuoi, si puoi cucire la tua distribuzione addosso, puoi personalizzare ogni pezzo del tuo desktop, environment, puoi fare tutto. e spiega anche perché ha scritto quegli editoriali che hanno suscitato tante polemiche, che a mio avviso, condivido anche io in questo punto, perché condivido quello che lui ha scritto, lui ha scritto perché quando ami qualcuno non ti accontenti, ma vorresti vederlo primeggiare. Io lo so che il software Linux non è, il software libero, scusate, il software libero open source, altrimenti Starman mi tira qualche cosa a presso, dicevamo, so che non è quello lo scopo del software libero open source, ma è libertà, condivisione del codice e quant'altro, però quando uno utilizza Linux per tanti anni, quando uno lo utilizza come sistema operativo principale, viene naturale anche volerlo vedere ovunque, volerlo vedere migliore, volerlo vedere superiore agli altri, ed è normale, nel caso mio è normale, anche nel caso di Enrico, quindi se uno fa una critica non la deve vedere come una critica negativa, è una critica costruttiva, ci dobbiamo migliorare, dobbiamo diventare migliori, dobbiamo crescere per far sì che tutti possano apprezzare il software libero. Bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, spero che non ci siano state troppe interruzioni rumorose durante il video, perché tra l'autoambulanze, tuoni e quant'altro, ci sono state diverse interferenze. Comunque dicevamo lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!